Benvenuti amici del canale. Oggi parliamo delle attesissime anticipazioni della nona stagione del Paradiso delle Signore, che tornerà in onda a settembre con nuovi episodi in prima visione assoluta. Le riprese sono in corso a Roma, negli studi della videa, e le novità sono davvero succulente. Preparatevi per un viaggio nel cuore delle intricate vicende della famiglia Guarnieri e del Paradiso. La nuova stagione promette scintille fin dalle prime puntate. Al centro dell'attenzione ci sarà Adelaide, la Contessa, che vedrà il ritorno di sua figlia Odile. Un ritorno che sconvolgerà gli equilibri e accenderà nuove dinamiche di potere e intrighi. Odile, dopo aver vissuto per lungo tempo in Svizzera, torna a Milano per vivere con sua madre Adelaide e Marcello Barbieri nella sontuosa Villa Guarnieri. Ma non pensate che sarà un semplice ritorno. Odile è pronta a conquistare tutto e tutti. La sua ambizione e determinazione faranno tremare i pilastri del mondo di Adelaide. Prima di proseguire, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna delle nostre anticipazioni esclusive sul Paradiso delle Signore Nove. Odile si immerge nel mondo di sua madre e ne resta affascinata. Ma la sua curiosità non si ferma qui. È decisa a farsi conoscere e a emergere nella società milanese. La sua forza di carattere e il desiderio di potere si manifesteranno subito, provocando non poche preoccupazioni ad Adelaide. Una delle prime mosse di Odile sarà quella di raccontare la sua versione dei fatti in una lunga intervista. Questo gesto, sebbene ammirevole, agiterà Adelaide, che avrebbe preferito un approccio più sobrio. Ma Odile non è tipo da mezze misure, vuole farsi notare e lasciare il segno. Adelaide si troverà a gestire non solo il ritorno di Odile, ma anche la sua complicata storia d'amore con Marcello Barbieri. La dinamica tra madre e figlia, con la presenza ingombrante di Marcello, promette di essere uno dei punti focali della stagione. E voi, cosa ne pensate del ritorno di Odile? Riuscirà a conquistare il potere o finirà per creare solo problemi? Fatecelo sapere nei commenti e discutiamone insieme. Se amate le nostre anticipazioni e volete supportare il canale, lasciate un like, iscrivetevi e attivate le notifiche. La nona stagione del Paradiso delle Signore si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti indimenticabili. Le vicende di Adelaide e Odile saranno al centro dell'attenzione, promettendo di tenervi incollati allo schermo. Continuate a seguirci per tutte le ultime novità e aggiornamenti. Non perdetevi le prossime anticipazioni e continuate a seguire il canale per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del Paradiso delle Signore.